Il suo obiettivo, secondo il GIP, era quello di provocare la morte del cugino. Per questo il 38enne Antonio Marzocca resta in carcere, accusato di aver ferito con colpi di pistola il cugino Fabio De Marzo, al culmine di un litigio avvenuto nel quartiere San Paolo di Bari, venerdì 1 aprile. Il GIP del Tribunale di Bari, Francesco Mattiace, ha infatti convalidato l'arresto in flagranza e ha applicato contestuale misura cautelare per i reati di tentato omicidio, minacce, ricettazione, detenzione, e porto illegale di arma da fuoco. La presunta responsabilità dell'indagato, che ha confessato sia davanti ai poliziotti che davanti al giudice, è stata documentata anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza e riferita da alcuni familiari, testimoni oculari del violento litigio. Ai magistrati Marzocca ha riferito che non aveva intenzione di ucciderlo, ma quando durante il litigio De Marzo aveva afferrato sua moglie dal collo, facendosi scudo con il corpo della donna per tentare di evitare i proiettili, non ci ha visto più. In quel momento, si legge nell'ordinanza, gli è scattato qualcosa nella testa. Secondo il giudice, però, se è vero che De Marzo, attraverso le sue escandescenze, ha provocato pesantemente Marzocca, è altresì vero che quest'ultimo ha impugnato la pistola ben prima che l'altro stringesse il collo di sua moglie. Per il GIP, quindi, l'obiettivo dell'aggressore era la morte del cugino. Inoltre, l'indole violenta dell'indagato, priva di freni inibitori, sarebbe dimostrata dal fatto che ha esploso più colpi, ricostruisce il GIP, senza dimostrare alcun cedimento, anche quando il cugino era già a terra.